Il nuovo assessore che entrerà da subito nella squadra della nostra giunta regionale è il professore Marcello Minenna, un professionista che non ha bisogno di presentazioni, economista e dirigente del Valore Indiscusso, con una grande esperienza nella pubblica amministrazione e quanto dice in una nota Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria. Ho conosciuto Minenna negli scorsi mesi durante il suo mandato alla guida dell'Agenzia delle Acise, Dogani e Monopoli e collaborandoci ho potuto apprezzare le sue qualità, le sue competenze, la sua determinazione, dice ancora Chiuto. Risponde il nuovo assessore, ringrazio il presidente Chiuto per la fiducia che ha riposto in me nell'affidarmi questo prestigioso incarico e alcune fra le deleghe più strategiche per l'economia e lo sviluppo della Regione Calabria. Le prime parole del nuovo assessore, affronto questo nuovo incarico, aggiunge, consenso di responsabilità e spirito di servizio, portando la competenza tecnica maturata in 30 anni da servitore dello Stato, insieme con la determinazione ed il rigore che hanno contraddistinto ogni mio impegno. Accetto questa sfida con l'entusiasmo di lavorare in una terra che è molto importante per lo sviluppo di tutto il Paese.